La decisione arriva nel ricorso proposto da Play Game SRL, BE SRL e Coral SRL, difesi dall'avvocato tributarista Alessandro Dagnino ed esperto del settore giochi e scommesse e dal team di amministrativo dello studio composto dal coordinatore Ambrogio Panzarella e da Martina Abate. E il secondo rinvio pregiudiziale ottenuto da Lexi a distanza di poche settimane sullo stesso tema. La battaglia sui canoni di proroga prosegue da anni, da quando le concessioni delle sale bingo più vecchie sono scadute nel 2013, da quell'anno il Parlamento ha rinviato il termine per la realizzazione delle gare con una serie di proroghe. Il canone mensile inizialmente era stato fissato a 2.800 euro al mese, poi è passato a 5.000 e adesso vale 7.500 euro mensili. Con questa seconda ordinanza di remissione, spiega l'avvocato Dagnino, i giudici amministrativi ampliano il campo della controversia, mettendo in discussione la stessa legittimità del regime della proroga onerosa in vigore da un decennio. Si spera che la giustizia europea possa sanare diversi aspetti su questa materia. Adesso, continua l'avvocato Dagnino, la Corte di giustizia europea potrà pronunciarsi definitivamente sulla questione e in caso di accoglimento non possono escludersi azioni risarcitorie da parte degli operatori danneggiati, ha detto.